No, non lo abbiamo messo, supporto morale a miglio, qualsiasi cosa io ci sono, perché veramente, al di là, capisci il feeling che hanno queste ragazze, la complicità, secondo me, io l'ho invitata, ti dico la sincera verità, l'ho invitata a posta, perché veramente, anche in terza media, infatti, secondo me, io non ho problemi nemmeno, se loro vogliono, quando vogliono, mettiamo la presso, la presso, ma questo è importante, cioè... No, no, ma è vero, ti dico, cioè, io sto da biciata, ho fatto biciare scientifico, ho smesso di studiare, ho ripreso a studiare a 23-24 anni, ho una laurea in architettura, sono partita per fare l'architetto, poi ho deciso, no, lavoro in negozio perché non riesco a fare, faccio l'architetto in un posto dove nessuno se lo immagina, ok? E faccio il sindaco, sono partita con una cosa e, capito, e delle volte sì, ed è così, ed è così, cioè io non avrei mai pensato che dicendo, vabbè, non faccio la professione, lavoro in ditta perché è la mia ditta, però io faccio l'architetto in un altro, capito, in un altro paese, in un altro, io lavoro in Africa, è diverso, capito, però è bello, cioè io dico, sono partita da, boh, cosa faccio, e nella realtà è che ha detto, come ho detto, si cade, ci si rialza, devo dire grazie a mio papà, su tutto, perché lui non ha mai smesso di battere il chiodo, ci siamo sfidati, abbiamo lì già, ma a 52 anni devo dire, 53, 53, devo dire che aveva ragione, su tutto aveva ragione, intanto nei miei figli si sta facendo quello, che ho fatto con le femminili, di voce, però se qualcuno, come voi, mi dice, ragazzi, ragionate, Simone ha finito anno di marchio, però già non so come è arrivato in finito, ma non ho finito con il mio figlio, con Sveva, va con Sveva, va con Sveva, a casa voi sapete che era, si a All'elementare si era con Sveva, abbiamo anche la canterina di Lonate e la Giorgia che era a scuola con Simone. Ceppine, ceppine! Ragazze, ceppine nascono. E' l'unico modo che mi fanno in scuola, perché adesso hanno quegli stimoli, che è tutto e che mi fanno in scuola.